Si è svolto stamattina a Catania, a Palazzo degli Elefanti, un incontro tra i sindaci delle città metropolitane. Noi abbiamo chiesto se le città metropolitane appunto sono davvero un'opportunità di rilancio per il nostro Paese oppure un palliativo per l'antipolitica. Ranno se saranno fatte. Non si capisce perché in Europa, Parigi, Londra e le altre grandi città sono governate con un sistema unitario e qui a Catania... Grazie a tutti Grazie a tutti